Renato caro, non lasciare mai questo camerino disabitato. È qui che il talento si forza, è qui che il coraggio si esprime nella sua forma migliore. Il tuo amico Carlo Giuffre è cresciuto tra queste consistenti pareti, perfezionando la mimica e la timbrica, lo stupore e la rabbia. Tutti i sentimenti sono passati da questa sacristia. Non smettere di rispettare questa solitudine, di cercarla, che questa condizione ci aiuta a sentirci uomini dentro. Sono tempi aridi questi, sì, sono aridi. Sono tempi in cui si rischia che a vincere siano la banalità e l'inconcludenza. Ognuno quindi il suo camerino, la sua dimensione, il proprio modo di rappresentare una realtà, cercando di renderla meno cattiva ed ingiusta. Ecco, un abbraccio a te mio caro amico, un abbraccio ed un bacio. Se tu mi vedi che agnera, quando sto imbraccio a te, se tu tu sienti a stregnare, che ho forte volta, non lo sai perché. La sua dimensione è un abbraccio ed è un abbraccio ed è un abbraccio ed è un abbraccio ed è un abbraccio. Come l'è 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 Vorrei a morire, pute a così Hai di che è ben inutile Si è destinato già Corgazana, a spartare Nessuna cosa è poco avvicinato Chi è braccia da un catena Chi ancora dice a Dio Ha come scura stu dostina mia Per sta fatalità E non ti sa c'è dicere Per chi mi attacca a te Chi più forte Lelle l'è 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 Lelle l'è l'è I trìa morire Puede a così In me si affrona, torna, nana, che auttombra fa cadere, si tutto torna a nascere, ma primavera c'ho postata a me. Che il cuore è strappo e che agnera, che un ammurato sente, si moce sparata sto presentimente, perché mi attacca a te. E amore, amore, abbracciami, o mio t'abbraccio e son la peggio, la 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 la, la la la, somma, la la la, ogli amore, il cuore è così.